salve a tutti ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video continuiamo con taxi live siamo con il nuovo mezzo che abbiamo comprato la volta scorsa quindi se vi siete perso il video andate ve lo riprende insomma perché comunque abbiamo appunto acquistato un nuovo veicolo e in più abbiamo messo in piedi la nostra società di taxi e abbiamo anche un nostro dipendente che utilizza la nostra vecchia vettura per guadagnarci qualcosina dovrebbe attaccare a mezzogiorno sulle 7 e 40 di mattina quindi sarà ancora dormire a quest'ora dobbiamo ancora attendere mentre noi siamo già in già pronti insomma per partire qua già se sta fa fila guarda che ci passa in cane con la scopa in bocca signora vabbè rimanga lì quindi vediamo un attimino cosa possiamo fare nelle vicinanze abbiamo questo da 973 lunghezza lunga quindi ci porterà sicuramente dall'altra parte della città oppure che abbiamo a parte alcuni cartelli del lavoro in corso addirittura 1401 dollari minchia cifra quattro passeggeri più e auto elettrica proprio specifica quindi interessante vediamo un attimino visto che appunto richiedono un'auto elettrica il nostro furgonato qui la quindi scendiamo i feri accendiamo il motore cosa è fatta la fila noi andiamo freccia e si va guarda 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 che è giallo ok cosa dovevamo già fermare il problema di questo è che non c'ha i freni molto funzionanti quindi bisogna questa un attimo attenzione allora qui c'è pure il garage ma no non ci serve dobbiamo fare solo un po' dei giri perché il nostro cliente sta un po' più lontano dai ormai sei passato infatti mi sono arrivato lunghissimo ormai era passato che caspita ancora un po' prenderci familiarità con il nuovo mezzo anche perché è pure più grande quindi bisogna prestarci un po' attenzione soprattutto in questi punicoli infatti infatti sono arrivato di nuovo largo c'avevo pure un po' di ammaccature dietro da lato insomma andrebbe fatta una una controllatina ma tutti adesso devo nuovamente attraversare dai e su e buono lì ok ecco il nostro tizio aspetti signora eccoci qua bella inchiodata salve chi è veramente bella il nostro vanno salve in quanti siete scusi dentro uno due e in quattro siete e perché il tizio non si è messo in fondo ma si è dovuto mettere avanti vabbè non lo so allora dov'è che dobbiamo arrivare eh mazza che giro di peppe scusa se noi arrivassimo qua non è meglio scusa eh allora se noi andiamo dritti poi a sinistra poi andiamo giù e scendiamo per di qua forse forse facciamo state un po' più lunghe cioè più scorrimento veloce ecco rispetto a quelle che magari ci vuole portare lui vabbè vediamo dai allora abbiamo detto in fondo alla strada a sinistra poi sempre dritto fino a dove per forza di cose dobbiamo girare a destra perché qua è una doppia cursia ma sono separate quindi per forza di cose poi ci tocca girare a destra allora qua vabbè pure a sinistra siamo vincolati niente non mi riesce a fare queste curve però eh devo anticipare moltissimo la la sterzata un po' c'ho poco raggio di di sterzata sto sto mezzo la mettiamo un po' di cruis allora qui andiamo dritti sì ok e l'ho avviato il motore scusa ma che sarà spento così e si è ingorfiato sapete che invece ripreme quello per il cruis ho premuto quello per spegnerlo e quindi poi siamo rimasti fregati allora il navigatore si è già bello che è aggiornato abbiamo pure beccato un bel semaforo verde che non fa mai male e quindi questo è il vialone che ci porta in fondo alla strada ok infatti si è proprio si è proprio aggiornato il problema il problema è che la destinazione è dall'altra parte quindi dovremmo poi fare inversione vabbè poi una volta arrivato nei pressi vediamo se possiamo fare una piccola infrazione e e lasciare i nostri clienti senza far troppi giri insomma allora insomma manco quanto è il oh frena il limite qua ma sa che è a 30 ma sa che è a 30 vabbè a parte che è pure rosso il nostro furgoncino qui pagato un fottio di esordi oddio 11.000 mi pare manco tantissimo insomma quindi eh si perché c'eravamo 16 e passa per comprarci diciamo la tesla ma poi alla fine dei conti non l'abbiamo presa per poterci sbloccare delle nuove emissioni quindi diciamo che l'acquisto è soltanto rimandato eventualmente ci siamo resi conti che conto che semplicemente era una macchina elettrica ma con le caratteristiche di quella che già avevamo quindi non avevamo un bagagliaio maggiore non avevamo un numero di posti maggiore quindi non sbloccavamo nessuna nuova missione mentre con questa che abbiamo sia il bagagliaio sia i posti ci ha sblocrato diverse missioni in più poi abbiamo anche preso il talento per sbloccare quelle le missioni diciamo quelle VIP e insomma quindi abbiamo fatto una bella scorpanciata dai però annaccia la miseria dai che ho capito che dobbiamo dare la precedenza ma se non ci imbocchiamo luce ma fare un incoci davanti a te non funziona correttamente ho capito ma qui non funzionano i tizi che stanno guidando sembra che ci siano un po' più di imprevisti adesso rispetto a prima magari è è una cosa mia però mi pare che ci siano più imprevisti a parte che non so se è sempre lo stesso incrocio che ha problemi dei semáfori oppure no però c'è un po' più di imprevedibilità ecco certo se risolvessero sto pop-up delle macchine che è veramente assurdo anche perché poi in teoria è una strada a 70 km orari e non è che nascono diciamo già lanciate quindi non si bloccano rinascono rinascono ferme e quindi il tempo che poi partono mentre tu stai arrivando devi rallentare per forza sei costretto ovviamente o a rallentare o a fermarti perché poi te li ritrovi di fronte ed è una cosa che devono risolvere assolutamente tra l'altro non sono uscite ancora 9 patch rispetto a quando ci siamo diciamo lasciati dell'ultima volta quindi voglio sperare che ci stiano lavorando perché se l'abbandonano così è un peccato insomma alla fine magari potenziare per qualcosa di differente c'è pure un po' come Bass Simulator insomma sono qui i giochi che a lunga andare poi magari abbandonano per dedicarsi magari a quello successivo e quello di prima rimane così a metà incompleto in mano ai propri bug quindi insomma non è proprio un'ottima cosa però vediamo dai vediamo rimaniamo magari fiduciosi sta cosa di pop up dovrebbero risolverla perché è qualcosa di assurdo soprattutto per pc ancora si vedono i pop up delle macchine dai non si può vedere assolutamente allora vediamo un attimo stiamo quasi vicino alla distigazione in verità anche calato un po' la pazienza del nostro i nostri clienti non ho capito perché abbiamo fatto tutto regolarmente in verità forse perché ci stavamo a mettere un po' troppo tempo non lo so può pare che siamo andati veloci nelle varie strade a parte come se che pure a 70 guarda quello come corre stiamo a 50 quindi possiamo ah vedi è dall'altro lato e niente tocca fare per forza il giro se no c'è da passare sopra il marciapiede e non penso che i nostri occupanti ne siano soddisfatti della manovra quindi per forza di caso tocca fare il giro vabbè pazienza faremo il giro tanto alla fine le zone che stiamo esplorando sono sempre quelle quindi speriamo anche che vadano qui non siamo andati all'altro lato magari con delle nuove patch vadano a sbloccare la parte della città che adesso è blocchiata cioè poi io spero che sia nei piani anche degli sviluppatori stessi andare poi a sbloccare le altre parti della città perché è inutile che mi fai la città una a una ma me ne fai solo un pezzetto prendo conto che il lavoro ovviamente è qualcosa di assurdo secondo me questa infrazione la possiamo fare se no lo so che non vi è piaciuta ma almeno vi faccio risparmiare qualcosa sul tassametro perché stiamo a tariffa fissa però quindi dicevo speriamo che appunto vadano a sbloccare parti della della città perché insomma alla fine andando avanti indietro sempre quelle zone andiamo a a visitare eccoci qua perfetto vai anche a lei salve salve allora ciò dare un po' di punti esperienza valutazione 4 stelle però prendiamo una barca di sordi prendiamo 1541 virgola 40 euro quindi insomma non è male assolutamente e l'altro è un po' troppo allora mettiamo un attimo il freno a mano vediamo cosa c'è nelle vicinanze che possiamo prendere questo sono 700 euro 400 300 1500 questa bella lunga anche la la tratta dai auto elettriche 4 passeggeri ok andiamo andiamo ora qui già faccio un'inversione così un po' ok alla cazzo se ne avrei dovuto fare tutto il giro per arrivarci andiamo anche un po' sfoga la nostra macchina elettrica qui piano perché quando arriva sta cosa 122 oh sto a fare i cerchi oh oddio perso il controllo scusi tutto a posto aspetta eh ha capito ci abbiamo questo test da coda paurosa aspetta che cazzo te sono vedi che sto impicciato sono abbiamo un po' esagerato non c'è morta tenuta sto furgoncino però al 120 ci siamo arrivati dai stiamo con rosso dai che dobbiamo arrivare in fretta che se no il nostro cliente si spazientisce poi allora questi devono girare a sinistra ecco qua ci tocca frenare un chilometro prima per fermarsi in tempo ok eccoci che è questa inquadratura oddio eh salve non so data che parte stesso inquadranto però vabbè dov'è che dobbiamo andare minchia dove siamo partiti per la corsa scorsa e si dai così a occhio mi sembra la strada più diciamo più corretta per arrivarci allora vediamo un attimino salve salve scusi se non facciamo passare i pedoni qua passiamo in mezzo così vediamo i dossi e andiamo qui a destra ok allora qui di nuovo a destra e poi mi sa che imbocchiamo sul vialone o su no mi sa che imbocchiamo sulla strada quella a scorrimento veloce sempre se questi non iniziano nuovamente a nascerci davanti aspetta che devo andare qui a sinistra oh che cazzo no non l'ho provocata la collisione mi sa inchiodarlo davanti sto stronzo scusi eh già questa non c'è freno a disco c'è tamburi sta macchina quello ma si è proprio inchiodato non so capite che per colpa mia perché ho tamponato quindi puoi averci tutte le ragioni del mondo ma sei tamponato la colpa è sempre la tua allora sì questo è quella a scorrimento veloce quindi qui limita a 70 mettiamo ser cruis e andiamo che sta attenti perché insomma come abbiamo visto prima non è che c'è molta agilità e rischiamo di fare un 360 pauroso c'è andata veramente di lusso prima perché poteva mandarci a sfracere la malamente addosso all'arberi quindi veramente c'è andata di lusso che cazzo è successo qua questo è un incidente sì agente stai stai indicando da una parte sbagliata no che cazzo succede attenzione si potevano mettere un attimino meglio però brutta storia cosa sta a fare in animazione speriamo bene il problema è che il vigile si era messo veramente dalla parte sbagliata stava indicando il marciapiede praticamente queste piccolizze che devono sistemare alla fine però perché il gioco ruota su questo seppure sbagli queste cose va un po' peggersi sti cavoli che la città ricreata uno guarda come se beccano sti due non mi ha per poco cioè non mi interessa avere la città uno a uno quando non c'è credibilità o mi sbagli nei vari punti i vari dettagli eccetera guarda che si stavano a mettere sotto sì però se non ci muoviamo dai guarda che l'ho pigliato pure che pizza ma parco giura dai quindi c'è da lavorare speriamo che lo facciano insomma per andarlo un po' a migliorare sto gioco allora qui andiamo a sinistra che altro i problemi dei frame rate c'è che nella mia situazione insomma non li ho sto sulle 80 90 frame il problema è che ci sono degli rallentamenti paurosi e il fatto che nascano queste macchine dar nulla ed è ed è in casino veramente è un casino vedete quando compaiono quelle davanti poi si rallenta tutto il traffico e come ho detto prima quelle davanti nascono ferme praticamente quindi il tempo che prendono un attimino lo slancio è finita ancora rotte queste luci qua davanti aspetta mettiamo se qua che qua vedo già brutta ah io però devo girare a destra dai 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 tu con l'audi su bravo dai allora in chilometro e due siamo arrivati a destinazione a destinazione voi siete sempre una cifra siete in quattro però non capisco il perché non si mettano nei vari posti dietro ma siete veramente davanti però vabbè andiamo a concluirsi così questa zona siamo siamo un po' più tranquilli occhio dopo queste strisce devo passare dei livelli per sbloccare le potenzialità di questa macchina perché veramente i freni sono qualcosa di assurdo decisamente sottodimensionati alla potenza del mezzo perché o dal peso ovviamente del mezzo perché per fermarci ci tocca veramente frenare molto molto prima di quanto uno vorrebbe fare e quindi poi ci sono quelle situazioni in cui magari devi frenare all'improvviso come prima e tipo qua che passano senza manco guardar però eh ho capito che si ripetono i suoi stisci pedonali tutto quello che vi pare però caspita se io sto arrivando aspetta un secondo cioè sono troppo ottimisti che uno si vada a fermare ecco veramente troppo ottimisti allora qui limite a 30 però siamo quasi prossimi all'arrivo se riusciamo magari andiamo proprio qui all'officina e ci andiamo intanto a riparare mezzo che insomma un po' di ammaccature a destra e sinistra gliel'abbiamo date non penso che con questa corsa riusciamo a passare il livello però dai passa pure te tanto ormai tu stai fermo lì grazie dai questa è la zona con 70.000 strisce pedonali ogni 50 metri ma manco perché alcune sono veramente tanto attaccate va che verde va che verde lì rosso frena oddio forse java c'è perché era ancora giallo quando sono riuscito a fermarmi non manca molto intorno che fa il giro del palazzo perché è qua dietro in questa traversetta qui a destra ma essendo a sansunico non ci possiamo andare quindi dobbiamo farci un attimo sto giro bene cacchio ho sempre paura veramente perché arrivi un attimino più lanciato e vai a sbattere scusate se vi fotto un attimino così ma il tempo che voi capite cosa dover fa io ho già girato pure qua è uguale mettiamo se qua sperando che il tizio parta prima di quest'altri che devono girare pure noi dobbiamo girare a destra però c'è questa prepotenza così ecchio cazzarola pensavo ripassarci mi scusi mi scusi sono assicurato tanto allora andiamo qui a destra e poi ci siamo eccoci qua ecco signori siamo destinazione ok grazie anche a lei allora eeeh presi 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 ah no abbiamo passato il livello ottimo livello 10 raggiunto perfetto abbiamo preso 1.361 euro che non sono male ci sarebbe questo da 951 nelle vicinanze lunghezza media però io prima ti prendi qualcun altro magari andiamo qui al al garage ok anche se devo fare il giro dei peppe parivacce eh perché non posso far marcia indietro aspetta eh vamo voi non avete visto niente eh non si fa così ok andiamo di qua ok così andiamo direttamente all'officina e vediamo mi sa che già con il livello 10 qualcosina potevamo comprarla però non mi ricordo se riusciamo coi freni sarebbe veramente tanta tanta roba occhio qua che se mette sotto il piedone dai allora pure qua c'è da fare un po' dei giri perché sto cavolo di cosa sta incastrato in mezzo guarda che giro dobbiamo far parivacce scusa ma non posso andare qua si che posso andare qua scusa eh dai che caspita devo fare tutto il giro per arrivare qui scusami eh ecco qua aspetti agente mi scusi eh è tutto regolare io sto solo a fare retromarcia per entrare dentro l'officina ecco abbiamo pure sfannato qualcosa tanto la dovevamo riparare sta macchina allora vediamo un attimino ricarica 144 euro minchia ricarica tutto 78 euro di riparazioni e 22 napolitina generale però eravamo qua vediamo un attimino il nostro amico qua come sta andando costo giornale 224 euro stato assegnato eeeh ok non so se forse deve ancora arrivarci al lavoro penso sto tizio questi sono i dipendenti che cambiano giorno per giorno ma noi non c'avevamo macchine da assegnargli quindi per il momento va bene così comunque c'è sempre uno svantaggio oltre al vantaggio quindi quello nostro era quello un po' meno peggio che ci andava un pochettino di cioè si andava a sporcare un po' di più la la vettura un po' più velocemente allora abbiamo passato il livello quindi abbiamo anche un punto abilitata da mettere via un po' allora qua l'avemmo riempita e apposto così quindi abbiamo scoprire monumenti e punti di interesse ti garantisce più punti esperienze il tuo personaggio progredisce più rapidamente che andrebbe a sboccare poi guida risparmio libertà guadagni più punti esperienze guidando senza passeggiare a bordo il tuo personaggio progredisce più rapidamente o compriate gli incarichi di frutto a più punti esperienze che è l'ultima altrimenti l'utilizzo delle stazioni costa meno facendo risparmiare denaro questa è l'uscita gratis corcaggio e questa i costi fissi per i veicoli dell'impresa diminuisco facendo risparmiare soldi io andrei su questo l'utilizzo delle stazioni costa meno e quant'altro ora andiamo a vedere un attimino se possiamo modificarci qualcosa no il motore il livello 12 quindi niente i freni e niente i freni minimo livello 11 quindi tocca fare possiamo cambiare i pneumatici però pneumatici con maggiore aderenza soprattutto in caso di asfalto bagnato ma a me pare che non piove mai o non pd non mi pare di aver mai visto pioggia questi sono multi stagioni insomma i pneumatici di base utilizzabili tutto l'anno questo tecnicamente ci da un po' di più di potenza frenante quindi questi 500 euro direi che li investo volentieri che appunto è proprio quella che ci serve un po' di potenza frenante in più però forse potremmo sbloccarci qualche miglioria esterna a parte il colore i led si sotto lo chassi oddio che manco se vede per quanto è grosso aspetta che in me sto a comprare tutti aspetta ma io volevo semplicemente ma parco giuda io volevo solo vedere come ah ma basta candacce senza cliccare vabbè mi ho speso un po' di soldi a comprare i led vabbè ce l'ho installati ce l'ho installati i blu ma io non voglio un cacchio quindi lascia così non lascia nulla rossi come sono troppo ah non ci stanno bene è troppo grosso sto macchino allora volendo potremmo cambiare questo lo spolerino lo potremmo mettere si ah lo spolerino ce lo mettiamo rendemolo covatto sto furgoncino dai e i cerchi poi alla fine abbiamo visto che quelli che abbiamo di default sono i minopeggio ci sta ci sta allora facciamo anche un po' di riposino ora sono le 10 facciamo 3 ore guarda gli attizzi non lavorano quando sta riposando ok va bene e tanto non ci stanno ancora al volante ecco non so è 13 quindi deduco che la tizia andava al lavoro a mezzogiorno mi è piata pensare che adesso stia effettivamente lavorando allora prima di salutarci ragazzi ci facciamo un'altra missioncina veramente al volo al volo se andiamo troppo troppo lunghi magari qualcosa che sia un po' meno che qua non c'è niente in verità non c'è niente nelle vicinanze dovrei far questa qui minchia 94 euro mi da però questa ma sei una di quelle che c'è da un sacco di mancia eh ma siamo troppo lontani in verità c'è troppo assato dove fare solo per arrivare ai tizi questa 358 570 eh troppo lontano dai ci mettiamo troppo e poi arriviamo lunghini vabbè facciamo così ragazzi ci salutiamo qui giusto no ho sbagliato tasto volevo vedere un attimo il nostro mezzo esternamente ok dai lo spollerino ci sta fa la sua figura peccato non si può abbassare come come sospensioni però non è male dai dai ci può stare il led sotto forse era un po' troppo che una macchina così grossa piazzarci pure i led magari non è non è proprio il top quindi aspettate che me devo togliere dal cacchio perché ovviamente quando uno sta a fare una cosa c'è il tizio poi deve passare pure nella realtà ecco abbiamo già sfornato tutto già sfornato tutto fratelli oh si mazza e botta aspetta aspetta andiamo a riparare nuovamente fermati chi è? guarda che tramva ok lasciamo così direi che non ci muoviamo così non ci accostiamo da nessuna parte allora io come sempre ragazzi vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao